Alla mia casella di posta paolafendi.gmail.com sono arrivate molte mail e alcune mi hanno posto la domanda se esiste anche la figura del narciso manipolatore donna o se è soltanto una caratteristica maschile. Mi dispiace dire che è un fenomeno quello del narcisista manipolatore che accomuna entrambi i sessi, anche se il narcisismo femminile si presenta con tratti e modalità differenti rispetto al narcisismo maschile e per questo risulta meno riconoscibile. Il narcisismo appare soprattutto come prerogativa maschile in quanto la spavalderia e l'arroganza, la distruttività e la propensione al tradimento e alla menzogna che sono tipiche del narcisista uomo sono presenti nel narcisismo femminile in modo molto mimetizzato e in una cornice di finta amabilità, integrità morale e gentilezza. Gli uomini che subiscono l'influenza della narcisista manipolatrice sono meno propensi a ricercare aiuto e tendono a ripiegarsi sui sintomi o a combatterli da soli perché maturano sentimenti di vergogna e di inadeguatezza maggiori rispetto alle donne a causa del condizionamento culturale che li disegna come forti e li riduce al silenzio. La reazione più comune è quella di dissimulare la mortificazione, l'asservimento e la tristezza ricevute nella relazione attraverso l'abuso di alcol, sesso compulsivo e apatia, isolamento sociale e, se individuare il narcisista perverso risulta naturalmente e relativamente semplice, smascherare la narcisista manipolatrice richiede una conoscenza più accurata e più profonda delle sue caratteristiche. La differenza più profonda e più evidente tra narcisisti e narcisiste è che i primi tendono alla distruzione del rapporto e perciò appaiono crudeli, mentre le seconde si aggrappano dietro le mentite spoglie di innocenti e reprensibili vestali dell'amore. Dunque, cosa fa la narcisista manipolatrice e in quali sono le azioni messe e quali sono le azioni messe in atto per innescare nel patana il corto circuito della dipendenza affettiva? È possibile individuare i dieci modalità tipiche della narcisista manipolatrice, beatificare per poi demonizzare, donare per estorcere, affabulare per confondere, moralizzare per svalutare, banalizzare per controllare, recriminare per perdonare, puntualizzare per umiliare, colpevolizzare per assolversi, vittimizzarsi per condannare, ricattare per avvantaggiarsi. Da queste modalità si comprende che le azioni della narcisista sono volte ad ottenere risultati opposti a quelli che possono apparire in prima battuta, mentre nel narcisismo maschile i metodi e gli approcci risultano decisamente più rozzi e più brutali, in quello femminile bisogna tener conto che ogni azione e ogni dinamica della narcisista manipolatrice si distinguono per le modalità di esecuzione delicata o trascolabile e raramente volta in modo diretto o deflagrante come risulta nel caso dell'uomo. Nella relazione effettiva la narcisista è capace di slanci superrudenti, di azioni grandiose e dichiarazioni d'amore eclatanti. Appare avvolgente, adorabile, generosa prima di passare, come fa il narciso, alla successiva fase distruttiva dell'altro. Mentre il narciso diventa incostante ed espulsivo verso la patader, la narcisista si impegna in un incessante invischiamento con il compagno e incentra la sua relazione sulla pretesa di cambiarlo completamente. Tratto comune alla figura maschile e femminile del narcisista è il senso di inadacuatezza instillato in modo manipolatorio nella relazione che porta la vittima a credere di non fare abbastanza per lei o per lui o che rileva la volontà da parte della narcisista di avere il suo comando sui suoi comportamenti e addirittura sui suoi pensieri dimostrando ripetutamente insoddisfazione verso qualunque cosa l'altro faccia per soddisfare le sue richieste. Ogni minima cosa è passata al saccettaccio al fine di rendere il partner finalmente all'altezza della narcisista. Questo atteggiamento ipercritico non viene rivolto solo al soggetto della relazione ma anche ai familiari e dagli amici di lui, al suo lavoro, al suo conto in banca. Un rapporto di questo tipo porta ad un isolamento della coppia dal mondo esterno e ad improntare la relazione sull'infelicità di entrambi. Lei che vorrebbe che lui diventasse a sua immagine e somiglianza e lui che compirebbe il tentativo impossibile di adeguarsi a ogni richiesta pur di evitare ma purtroppo inutalmente il tradimento e la rottura definitiva della relazione. Queste storie in cui è lei e la narcisa della situazione si snodono tra continue liti e interruzioni temporanee della relazione che poi riprendono quando tutto sembra irrimediabile declinandosi in due modi. Lui implora che implora lei, giurandole ed assicurandole un cambiamento e lei gli concede il perdono incondizionato, salvo per poi pagare caro il conto per averla lasciata o per averla costretta a lasciarlo. Oppure è lei a tornare perché dopo averlo coperto di insulti sembra propensa al cambiamento pur di mantenere in vita il rapporto, tranne in seguito presentagli in conto per averla indotta a umiliarsi pur di riaverlo con sé. In entrambi i casi la relazione prosegue tra alti e bassi. Saranno sempre di più i momenti di infelicità che quelli di felicità. All'insegna di una separazione impossibile è limitata da continui dolorosi riavvicinamenti sino alla consumazione psicologica del partner che spesso non molla anche quando il suo disagio diventa sintomo come insonnia, ansia, irritabilità, alterazioni dell'umore, difficoltà di concentrazione, gelosia patologica, disfunzioni nella sfera sessuale e abuso di alcol o di altre sostanze utilizzate per cercare di colmare il vuoto causato dalla dipendenza affettiva. Queste relazioni spesso si concludono quando è lei a decidere di porre termine il malcapitato viene abbandonato proprio quando credeva di aver soddisfatto con grande fatica o almeno in parte le pretese di lei. L'anneccisa decide di porre termine alla relazione senza possibilità di ritorno e in tempo brevissimo ha già intrapreso il prossimo grande amore della sua vita. In questi casi la vittima abbandonata non sa ancora quanto grande sia stata la sua fortuna in quest'ultimo gesto di lei.